E lei regina ha dovuto puntare i piedi contro le numerose richieste del principe Harry e Meghan Markle dopo aver annunciato che si sarebbero dimessi da reali senior. La personalità televisiva Lizzie Kundi ha affermato che la regina ha respinto i tentativi del principe Harry e Meghan Markle di continuare a utilizzare i loro titoli di SAR dopo la Magixit. La signora Kundi ha detto, sua maestà ha puntato i piedi e ha segnalato che alla coppia non sarebbe stato permesso di usare lo stile una volta che avessero lasciato i loro ruoli reali ufficiali. La rimozione dei titoli di HRH è andata di pari passo con la decisione di dimettersi, poiché significava che il duo non rappresentava più formalmente la regina. Parlando al documentario di Channel 5 Fergie and Meghan, Inconvenient Royals, la signora Kundi ha dichiarato. La regina ha dovuto puntare i piedi e dire, beh, se questo è quello che vuoi, allora non puoi usare i titoli reali. In effetti devi restituire i soldi, i soldi dei contribuenti, cioè, per il Cottage Frogmore. La ristrutturazione di 2,4 milioni di sterline e i pagamenti dell'affitto sono stati effettuati dalla coppia dopo le dimissioni e il trasferimento negli Stati Uniti. . Hanno subito un enorme contraccolpo dopo la loro decisione di dimettersi in relazione ai costi di ristrutturazione che sono stati coperti dai contribuenti nell'ambito del Sovereign Grant nel 2018-19. La signora Kundi ha anche affermato che sua maestà ha detto al duca e alla duchessa del Sussex che non stavano ricevendo soldi per la sicurezza. . La rimozione dei loro dettagli di sicurezza è qualcosa che il duca del Sussex ha affermato di non aspettarsi, e qualcosa che Meghan ha affermato essere un cambiamento di convenzione. Nell'intervista bomba di coppia con Oprah Winfrey, Meghan ha dichiarato di aver pregato personalmente al palazzo di continuare a finanziarlo. Harry ha affermato che i dettagli di sicurezza sono stati rimossi con breve preavviso e la posizione esatta sua e di Meghan era nota a causa del teso controllo pubblico.